Ciao ragazzi sono Mattia Rock God e ben ritornati nel mio canale. Come promesso sono qua per darvi qualche comunicazione in merito alle ferie. Vi chiedo scusa se faccio il video in macchina ma fuori fa abbastanza caldo. Fa caldo anche qua dentro in realtà ma devo resistere perché tanto è un video veloce, ci metto poco. Allora per le ferie sono via dal 23 agosto al 31 agosto compresi. Ovviamente l'attività di YouTube, quella regolare, quindi recensioni, vlog, ultimi acquisti, insomma tutti i video che faccio di solito sul canale sono ovviamente sospesi. Farò però dei mini vlog come ho fatto a Rodi due anni fa per tenervi compagnia durante queste vacanze. L'attività anche di gaming è sospesa sia per quanto riguarda Xbox, nella gran parte, ma anche su Steam. In realtà sto più su Xbox che su Steam, però vabbè Steam adesso lo sto considerando più una piattaforma secondaria, infatti vedete che non ne sto neanche parlando. Sto parlando più che altro di Xbox perché appunto, come sapete, è la mia piattaforma principale. Quindi devo fare ancora il cross-posting, quindi pubblicare il video, il video sì, magari, il feed, il post del feed con le date di quando sono in ferie, informare tutti che appunto sono in ferie, quindi gaming, tutte le attività che concernono il mondo del videogioco sono sospese. Fino al 2 settembre, quindi lunedì 2 settembre torno non solo a lavorare, perché io al 2 sarò di turno al lavoro, ricominciamo in grande stile, ma riprenderanno anche tutte le attività. Quindi vabbè, a parte YouTube che farò questi mini vlog per tenervi compagnia, ma tutto il resto è sospeso fino al 2 settembre. Vediamo se prima del 23 riesco a pubblicare ancora qualche videino, altrimenti ci si vedrà in ferie con appunto questa sorta di racconto a mo' di mini vlog. Adesso scappo ragazzi perché mi aspetta gente a casa e soprattutto devo pubblicare questo piccolo video e anche riposarmi perché sono abbastanza stanco. Chiavi in mano e si va a casa. Ciao ragazzi, alla prossima!